ciao a tutti benvenuti su mtg pills by mages of lotus oggi vi porto l'interazione tra blood moon e due terre in particolare la prima vesuva la seconda la dia d'arbor cominciamo dalla più semplice allora con il cambio di regole che c'è stato excellent quindi un bel po di anni fa oramai la vesuva entra in campo come montagna stappata quindi non è in grado di copiare niente non come prima che entrava come copia di qualcosa quindi questo cosa vuol dire che entra come montagna non basica però appena togliamo dalle scatole la blood moon lei torna a essere una vesuva normalissima però che non sta copiando niente quindi una terra inutile perché non ha neanche l'abilità di mana mentre la dia d'arbor cosa le succede rimane una creatura rimane verde perché è dato dal color indicator e questo non viene toccato dalla blood moon però è una montagna e aggiunge rosso alla prossima per prossimi ruling e stay tuned